Da oggi tutti coloro che ne hanno diritto, sia i sanitari, sia dipendenti pubblici che privati, volontariamente possono iscriversi sulla piattaforma, così come i residenti presso le case di riposo e le RSA. E' un inizio di questa nuova campagna, subito dopo la loro iscrizione, viene richiesto dalle ALS di dare, di esprimere il consenso, perché è importante, e poi ci sarà la somministrazione del vaccino entro il 15 gennaio. Ossia appena arriveranno i vaccini, il Dipartimento, le ALS stanno lavorando per seguire tutto ciò che è il deposito, tutto ciò che è l'organizzazione del vaccino, perché come voi sapete hanno bisogno di strutture, di luoghi adeguati e soprattutto di una verifica e controllo che tutta proceda nel meglio e in sicurezza.